ragazzi facciamo il prossimo video sull'area picnic ragazzi guardate ragazzi come noi diciamo sempre e diceremo per un sacco di tempo no facciamo un video cioè uno degli ultimi video fatti sull'area picnic perché tutti i video fatti sull'area picnic sono belli da ammirare ragazzi ma cosa si fa quando una persona non vuole comportarsi bene arrivano un sacco di poliziotti e carabinieri e mettono tutte le persone che hanno fatto le cattive in galera come noi abbiamo già previsto sappiamo che fare un effetto speciale ma guardate non è bello che mi vede tra le piante ragazzi il video di voi ne pensa alcune volte bene alcune volte male quindi per fare un effetto speciale direi per fare un effetto speciale levati di mezzo che devo tirare un calcio al cosiddetto cubo cosa facciamo ci rendiamo utili ma dire ci rendiamo utili sull'effetto degli effetto speciali mettiamolo così vuoi fermare o no ragazzi noi siamo entoni conca che lo potrebbe far zumbare sui 500 metri ho plan e visto come noi non sappiamo far zumbare un cubo ai 500 metri andate quel maledetto uccello sa fare un poco di tutto e la terza volta oh è passato domanda la telecamera mi sa proprio di sì e mi sa che l'ho anche perso stavolta devo andare a raccoglierlo nella foresta amazzonica più profonda per dire più profonda perché devo andare a affrontare dove in una zona molto sconosciuta e cimiteriale perché il cubo ve l'ho fatto girare davanti alla telecamera e che ho fatto ho fatto un bellissimo guaio perché poteva anche colpire la telecamera mettiamolo qui ragazzi una cosa è certa sapere su di noi cosa ci resta d'orgoglio e le cose spettacolari che siano o non siano stare attenti a quanti vi sembrano i video spettacolari sapete perché oggi è una giornata ultratale e non me ne tiene di fare attenzione quindi se tutti vadano per il meglio anche noi andiamo per il meglio e quindi se non vogliamo avere problemi anche gli altri non devono avere problemi a essere un po' circostanziali sulle cose che non vogliamo fare e se ci friggiamo tutti quanti nella lava bollente ardente facciamo una brutta fine tutti quanti come se mi scappa qualcosa cercavo di farlo durante il giorno e la notte per far ridere tutte le persone cerchiamo di non essere un po' troppo sfiggiosi un po' troppo che fanno i suoi casini cerchiamo di rompere le scatole a qualcuno così ci mettono in galera ci mettono in galera e facciamo brutta fine capito noi siamo la società che può essere creata tale da essere navigata sul loro sulle zone sappiamo di tutto però quello che non sappiamo e fare attenzione ai pochi persone civili che sono su questo territorio dell'area picnic si sta alzando il tavolino facciamo attenzione perché si potrebbe anche spezzare capito grazie a tutti grazie a tutti